Allora, benvenuto a Giovanni Caccamo, grazie di essere qui con noi a Radio Bruno. Allora, il tuo primo festival, naturalmente, sei tra le nuove proposte e sei emozionatissimo. Assolutamente. Chiunque dica che quel palco è un palco come gli altri, mente spudoratamente. Già dalle prove tutta la storia del festival, tutta questa responsabilità, insomma, la avverti molto pesantemente. Però, insomma, sto cercando di rilassarmi, di prepararmi in maniera serena a questa esperienza fighissima. Tra l'altro quest'anno ai giovani viene data un'importanza per la prima volta davvero da prime time, lo diceva anche Carlo Conti. E quindi sarete in prima serata e non più come nelle scorse edizioni relegati, diciamo, dietro ai big. Ma secondo me è stato un regalo enorme da parte degli autori che, infatti, ringrazio e ringraziamo tutti. E faremo del nostro meglio per essere, insomma, all'altezza di questa responsabilità. E quindi, meraviglioso. Come definiresti la tua canzone? È una canzone positiva, che rappresenta l'unico modo per sconfiggere l'alienazione di cui siamo succubi. Cioè, corriamo, corriamo, a destra e a sinistra non si capisce bene dove. Dove forse l'unico modo per ritornare a dei rapporti positivi tra le persone può essere quello di riacquisire un po' più il rapporto con noi stessi. Quindi più che ritornerò da te è un ritornerò da me. Possiamo dire che per te è un doppio festival in veste, ovviamente, di interprete della tua canzone, ma anche di autore della musica della canzone di Malika Iani. Sì, infatti questa cosa mi riempie doppiamente di gioia. Ho assistito alle prove di Malika ed è una sensazione altrettanto forte, ma diversa. Quindi, che dire, sono proprio contento. Senti, cosa ti aspetti da questa gara? Ma al di là di ogni competizione, io spero di riuscire a viverla con positività, con gioia e godermi questa esperienza che comunque sarà, è un'esperienza unica. Quindi questo mi aspetto. Ho già avuto tantissimo, quindi sono già molto contento. Poi, come diremmo noi in Sicilia, come bene si conta. E dopo il festival, quali sono i tuoi progetti? Il 12 febbraio esce il mio primo album, si chiama Qui per te, esce per Sugar Music. Ci sarà anche un duetto combattiato all'interno, è stato prodotto da Daniele Luppi a Los Angeles. E questa in assoluto per me è la vittoria più grande, perché comunque sono anni che scrivo queste canzoni, che mi preparo a questo momento. E quindi questo è, insomma, l'appuntamento numero uno. Poi inizierà un tour, ci sarà la presentazione dell'album in giro per l'Italia nelle Feltrinelli. Continuerò il mio progetto Live at Home nei salotti delle persone. Quindi, insomma, in versione leggermente ridotta, però continuerò a farlo perché è una cosa che mi nutre proprio tanto. Benissimo. Allora noi, Giovanni, ti ringraziamo di essere stato qui con noi a Radio Bruno e ti facciamo un grande bocca al lupo per questo festival. Grazie.